Ho preso un impegno e non ho intrapreso una finzione. L'impegno era quello di verificare fino in fondo la possibilità di poter tenere eventualmente questa straordinaria festa dei Ceri nel mese di settembre. E questa verifica verrà fatta fino in fondo. Naturalmente sapendo che oggi abbiamo davanti a noi ostacoli notevolissimi, da sindaco di Gubbio e quindi da interprete di quelli che sono i sentimenti, i valori, gli stati d'animo, le inquietudini, le emozioni, le passioni di questa comunità, devo dire chiaramente agli organi dello Stato che a Gubbio c'è una forte sollecitazione, una forte attesa, una appassionata mobilitazione perché ci si possa riprendere la festa. Questo lo devo dire perché c'è, anche se naturalmente con accenti, con modalità e anche con argomenti diversificati, con una convinzione che non è ovviamente assoluta, che non è generalizzata, però questa spinta è presente e saremmo miopi se non ne la cogliessimo. E mi ha fatto molto piacere quello che il prefetto Gradone mi ha detto qualche giorno fa perché non è stato un colloquio burocratico, fatto di norme, di circolari, di provvedimenti, ma è stato un colloquio tra due uomini delle istituzioni che avendo sperimentato sul campo che cosa significa per delle comunità, come quella di Siena, come quella di Gubbio, dover sospendere le loro più importanti feste, quelle che si portano dietro nel cuore da secoli, sanno benissimo di che cosa parlano e su che cosa calano la loro azione di uomini dello Stato e di uomini delle istituzioni.